Siamo giunti all'appuntamento col presepe 2014 della Movio, associazione giovanile panzese. Va ancora una volta attiva, attivissima in questo periodo natalizio. Da due mesi a questa parte i ragazzi della Movio stanno portando avanti questo presepe, ancora una volta ricco di sorprese, ricco di particolari, che verrà inaugurato lunedì prossimo alle 19.45 con la benedizione del parroco Don Cristian. Avremo la possibilità per tutti di poter ammirare questo presepe, che non è più ambientato a panza come l'anno scorso, ma quest'anno ritorniamo un po' alle origini, cioè proprio al tempo della nascita di Gesù. Una menzione particolare a tutti quelli che hanno realizzato questo presepe, in modo particolare al leader Michele Calise, insieme a tutti i ragazzi che si alterneranno tutte le sere qui al presepe fino al 6 gennaio. Non posso non citare colui che è stato ancora una volta l'idiatore, dietro le quinte, sempre incessante con i suoi consigli e la sua bravura, Mario Acunto, e noi vogliamo ringraziarlo veramente di cuore. Il presepe resterà aperto fino al 6 gennaio, sarà aperto la sera dalle 17 alle 20 e 30 e invece nei giorni festivi anche la mattina. Il titolo di quest'anno è un po' particolare, preso dal Vangelo di Giovanni, che ascoltiamo il giorno di Natale, venne tra la sua gente e i suoi non l'hanno accolto. In pratica questo titolo rispecchia un po' anche, lo vedrete, il modo in cui è stato pensato questo presepe, con la capanna che viene un po' dislocata lateralmente rispetto a tutto il resto della vita, che continua a svolgersi tranquillamente nonostante sia accaduto un evento di cui queste persone stentano anche a riconoscere la grandezza. E secondo motivo, possiamo dire inoltre che è questo poi il vero senso del Natale, cioè Dio venendo sulla terra ci mette davanti a una scelta. Se l'anno scorso avevamo scelto come tema venne ad abitare in mezzo a noi, quest'anno proseguiamo con venne in mezzo a noi ma i suoi non l'hanno accolto. Quindi di fronte a questa provocazione di Dio, è il nostro metterci in discussione e scegliere sia di accoglierlo che di rifiutarlo.